Si torna a parlare un po' di nazionali giovanili, quest'oggi commentiamo in particolare il percorso dell'Under 15, due amichevoli importanti per i ragazzi di Mister Battisti contro la Spagna, ma vorrei partire brevemente dai convocati dell'Under 19, perché settimana prossima, adesso non so quando pubblicherò il video, comunque la settimana dopo quella degli impegni dell'Under 15, c'è uno stage di preparazione importante per quanto riguarda l'Under 19 in vista degli impegni di marzo, perché vi ricordo che comunque ci saranno degli impegni importanti, la fase elite dell'europeo di categoria a fine mese, quindi saranno dei giorni dal 10 al 12 marzo importanti per la nazionale di Mister Corradi per andare un po' a vedere chi poi sanno i papabili convocati, sanno quindi diciamo in questo senso dei test interni ovviamente, non sono amichevoli vere e proprie, ma sono test interni, sedute di allenamento, importanti e preparatorie, questi convocati, ovviamente ricordo alcuni 2005, ma la maggioranza sono classe diciamo 2006, o meglio qualcuno di classe 2006, la maggioranza sono 2005, perché qui parliamo di anni 19, quindi in porto abbiamo Marin dalla Roma e Motta dalla Leggiana, difensori Corradi dal Verona, Cofre dal Suttirol, Mannini che in realtà è un centrocampista dalla Roma e Pagnucco dalla Juve, a centrocampo Sassuolo, stavo dicendo Sassuolo dal Bruno, in realtà Bruno dal Sassuolo, Ciamagliecara dal Torino, Di Maggio dall'Inter, Arder dalla Fiorentina, Lipani ancora dal Sassuolo, Manzoni dall'Atalanta e Romano dal Genoa, attaccanti Anghele dalla Juve, Sisse dal Verona, Misitano dalla Roma, Dominic vava al sole dall'Atalanta e vinci guerra dal Cagliari, quindi questi convocati per questo stage pre-fase elite dell'europeo. Ma come detto soffermiamoci sull'under 15 di Mr. Battisti, ragazzi classe 2009 che hanno disputato due amichevoli molto molto importanti contro la Spagna, una squadra di alto profilo, di alto livello, due risultati non straordinari, fantasmagorici, fantascientifici, però match utili per la crescita di questi ragazzi. Prima partita terminata sul punteggio di 1-1, segna il gol per la Spagna Tunkara su calcio di rigore, per l'Italia invece gol di Pisati. Nella seconda partita invece è arrivata una sconfitta per mano di Enzo Alves, il capitano della Spagna, tra l'altro protagonista Mazzi per la nazionale che ha parato anche un rigore agli spagnoli, quindi poteva anche essere più ampio il divario tra le due squadre, rigore parato a Ruben Gomez, però per il resto, nonostante la sconfitta, test importante e probante, ripeto, contro una realtà di altissima caratura. Vi ricordo i convocati per, diciamo, completezza, portieri Mazzi dalla Fiorentina e Sonzoni dall'Atalanta, difensori del Fabro dall'Udinese, di Allò dal Parma, di Hop dalla Samp, Evangelista dall'Inter, Giovane dalla Lazio, Mandirola dal Genoa, Rocchetti dalla Juve, Touré dal Bologna, a centrocampo Angelicchio dal Milan, Baffo dal Sassuolo, Brizzolari dal Genoa, Gianmattei dalla Roma, Pisati dal Milan, Riccio dal Napoli e Stocco dall'Atalanta, davanti Eli Mogale dalla Juve, Fugazzola dall'Atalanta, Fustini dal Bologna, Landi dall'Empoli e Zanatta dall'Atalanta. Questo quindi è, io vi fermo, vi rimando ai prossimi impegni giovanili nelle prossime settimane, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!